Paolo Nori, lei ieri sera ha finito un incontro con la citazione delle lettere condannate a morte per la resistenza. In relazione a questo, nonostante questo o proprio per questo, che cosa ti fa sorridere nella vita? Io ho l'impressione che il riso, il sorriso, siano una faccia la medaglia, l'altra faccia la disperazione. Quelle lettere lì sono l'espressione di alcuni di questi condannati a morte per la resistenza, uno di quelli che ho letto ieri sera, parlava di quel momento lì, un momento in cui era un momento triste e bello. Io stasera farò un discorso sul ridicolo e un elogio del ridicolo. Quando mi hanno proposto di fare questa cosa non sapevo se avrei fatto un elogio, cioè se era ridicolo era una cosa che valeva la pena per me, non so come dire oppure no. E alla fine, scrivendolo, mi è venuto a pensare che i momenti in cui ci sentiamo ridicoli sono comunque i momenti in cui siamo vivi, che è comunque una specie di novità. Grazie.